Tu nome? Giuliano. Giuliano che? Caros. Caros. De Bologna. Io non parlo italiano bene però domanda io domanda se conosce la storia di questo obelisco che era qui. Sì, che anni fa stai ancora a Mussolini. Sì, sì. C'è guerra a Etiopia. E tu lo ricordo quando tu eri bambino o no? No, perché stai a Bologna. Sì, sì, sì. Perché prima è cominciata la seconda guerra. Sì, sì. E adesso come ti senti che sta ritornando in Etiopia? È male? È bene? Com'era? Quando sa premiera Berlusconi. Silvio Berlusconi. Lui ha fatto, sì. Sì, sì. E come tu lo... Quasi due anni, 2003, l'ho portato a Etiopia. Sì, sì, sì. Mi ha tagliato la gamba nel 2003 e io mi ritrovo. Oh, la verità. Mi dispiace sentire. Perché? Diabetico? No. Per circolazione sangue. Ah, la circolazione. Mi dispiace sentire. E che lavoro ho fatto prima? Sì, sì. Come mio zio. Lui fa queste cose, queste... In inglese si chiama Mason. Un Mason. Allora, signor, molto piacere per fare questa intervista poco. Molto grazie. Mi nome è Nicola Di Marco. Io faccio un film di questa storia. e se posso, non lo so, se posso avere due indirizze per mandare informazione e se... Sì. Salita San Gregorio, a casa compresa. In Balogna. Come suore missionare a Madre Teresa di Cana. Come? Suore missionare a Madre Teresa di Cana. Va bene. Qui in Roma? Di qui. Questo palazzo proprio qua. Allora. Questo è il futuro, è il futuro più grande. Sì.